Siamo con Giovanni D'Andrea, grande vittoria di questo torneo in pre-season, quali sono le sensazioni, come è stata questa prima uscita? Beh, le sensazioni buone, diciamo che c'è molto da fare perché eravamo un po' a corto di fiato verso la fine, sulla terza partita, poi giocare solo 20-25 minuti, non avere la completezza dei tempi, è un po' particolare, quindi bisognava adattarsi. Ecco, però bene, bene. Grandi partite, questa è la strada giusta per intraprendere un buon percorso. Sì, diciamo che dobbiamo un po' ancora migliorare nell'uscita di valla, da dietro, mettere magari il piede un po' di più al centrocampo, compreso io, e poi finalizzare un po' meglio, quindi ci sono tutte quelle cose che servono insieme per portare a casa la vittoria. Grazie D'Andrea, complimenti. Grazie a voi.